Continuiamo a parlare di lavoro. Sono le regioni del Sud a pagare il prezzo più alto della crisi con un calo di oltre 300.000 occupati. Lo comunica lo Svimez. Mario Azzolini. In Italia dal 2008 al 2013 sono stati persi oltre 500.000 posti di lavoro. E' il Sud in particolare che paga il prezzo più alto della crisi con un calo di 300.000 occupati. Lo studio sul quinquennio è di Svimez che ha elaborato i dati dell'Istat. Il mezzogiorno con il 60% della forza lavoro in meno è la zona del paese che ha il 27% degli occupati. Se da una parte del Sud resta un'emergenza nazionale rimane fortemente critica la situazione del centro-nord. Rispetto al PIL, il dato regionale fra i paesi europei vede dal 2000 al 2007 la Lombardia passare dal 17 al 29 posto e la Sicilia dal 196 al 217. Noi dobbiamo attrezzarci, qui viene la questione della restrizione creditizia, dei credi alle imprese, della crescita e dello sviluppo per attrezzarci, per inseguire questa domanda mondiale che ora è in forza in ripresa e che sta superando la crisi che già dura da molti anni. Tragico.